ciao ragazzi benvenuti su italyan film collector channel sono qui per presentarvi gli ultimi arrivi ci sono degli omaggi da parte di mustang un arrivo da amazon e altri arrivi da piano 9 di daniele francardi prima di iniziare però vorrei fare un piccolo triste diciamo approfondimento su qualcosa di poco piacevole ma ovviamente basandoci sul fatto che non sto qui per tediarvi anzi sono qui per comunque tenervi compagnia non gli dedicherò molto moltissimo tempo però secondo me è doveroso allora praticamente domenica sul mio profilo facebook italyan film collector anche lì praticamente un signore e metto tante virgolette alla parola signore dopo farò anche il nome assolutamente sì praticamente io ero praticamente reo di aver messo in vendita tre edizioni uce quindi ultimate collector edition di di l'esorcista della warner quindi edizione italiana ha in sovrapprezzo scusate ragazzi controllo si è acceso il microfono si è acceso in sovrapprezzo praticamente avevo fatto 100 euro compresa spedizione facendo presente ecco perché magari chi colleziona veramente alcune cose le sa praticamente ibs ce l'ha disponibile ma sta spedendo delle steelbook semplici al posto della della uce e anche lì potremmo farci delle risate su alcune cose ma evito e poi invece amazon dà una disponibilità uno due mesi ma al 90 per cento se non di più non saranno mai in restock quindi è da ritenersi un fuori catalogo anche perché su dvd store tipo è fuori catalogo e non solo praticamente questo signore che ora farò il nome io ho degli screenshot tra l'altro alessandro marangio capo redattore e direttore di movie ora le dico subito ora vi dico subito movie non mi ricordo che dovrei avere qualcosa che me lo ricordo movie 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 mag ecco movie mag il signor marangio è venuto sotto il mio post dandomi del ladro dandomi del marocchino cioè quindi dimostrando anche diciamo una forma di razzismo che dentro di lui quindi era esternata dandomi del marocchino che c'è che stavo facendo come il peggio dei marocchini quindi razzismo ora vi dirò perché vi sto dicendo tutte queste cose che io ero un ladro quindi è anche passabile penalmente cioè se quindi sarei andato dall'avvocato a dire il signor tizio simpronio mi ha dato del ladro pubblicamente è passabile penalmente non l'ho fatto perché mi rompo anche le palle di queste storie preferisco ecco denunciarlo in questo modo qui mi ha dato del marocchino del ladro a lui non ha mai fatto il dipendente quando io ho fatto presente che la movie mag a questo punto avrebbe dovuto scegliere meglio i suoi dipendenti lui se ne è uscito che lui non ha mai fatto il dipendente forse io ho fatto il dipendente quindi vabbè poi mi sono incuriosito sono andato a vedere questo movie mag perché lui dice che è anche ma probabilmente è vero e anche sono menzionato alla rai quindi peggio ancora anche con i soldi miei e con i soldi vostri sono andato a leggere un po la diciamo la descrizione del della redazione e sono rimasto un po basito in quanto c'è tanto autoreferenzialismo del tipo noi non copiamo come gli altri noi non facciamo i nostri prodotti c'è il nostro articolo i nostri articoli sono di qualità dovrebbero dirlo gli altri ma questo stiamo uscendo un po fuori la cosa era giusto per farvi capire lo spessore generale della situazione e niente quindi lui ha deciso così poi mi ha mandato un giorno dopo un altro personaggio guarda caso anche lui di roma c'è quindi a darmi ulteriormente del ladro sulla mia pagina sul mio profilo ovviamente da oggi non sarò più diciamo così benevolo partiranno poi le denunce se qualcuno insiste con questa storia quindi state bene attenti state bene attenti anche a profili fake perché si raggiungono tranquillamente a chi appartengono ultima ultima chiosa praticamente l'ultima cosa proprio cioè lui parlava in romanesco quindi coione e li mortacci tua come non so per intimire darmi cioè intimidire darmi un senso di timore è come se io da napoletano in un momento di litigio comincio a parlare napoletano per fare l'effetto Gomorra insomma sarebbe anche un po triste la cosa vabbè passiamo a quello che ci interessa che sono i titoli in io partirei con gli omaggi da parte di mustang entertainment che ringrazio e chiedo scusa anche a mustang della premessa non felice per quanto riguarda questo video ma appunto ci interessa vedere cosa ci ha mandato mustang allora partirei da dei dvd psicosissimo psicosissimo un film brivido un ambiente senza pietà un'avventura senza tregua più agghiacciante di psycho più diabolico dei diabolici ugo dognazzi e raimondo vianello quindi ragazzi abbiamo capito di cosa stiamo parlando a me fanno impazzire i film così andiamo ad aprirlo ovviamente semplice dvd però fatto anche bene c'è quindi vecchio stile con i diciamo i capitoli qui sul sulla parte sinistra della della copertina interna ugo e raimondo sono due attori specializzati scene poliziesche un marito affitto per il tradimento afflitto per il tradimento quindi non affitto della moglie infedele scambiandoli per due assassini veri propone loro di sistemarla dietro grande compenso ovviamente accettano ma fingeranno solo per prendere i soldi ma anche la moglie vuole disfarsi del marito con l'aiuto dell'amante morto il primo mandante ugo e raimondo si trovano invischiati tra i malviventi e la polizia ma si salveranno abbiamo un film italiano del 1961 92 minuti dolby digital 2.0 quindi abbiamo questa semplice amarai di questo splendido film sicuramente sarà splendido allora poi abbiamo il toro con edizione speciale restaurata tra l'altro un film di carlo mazzacurati con dieco con dieco abbatando non avevo detto proprio a modo suo dieco quindi andiamo a spacchettare anche questo son dieco mi spiego allora eccoci qua allora licenziato dopo nove anni di lavoro in un allevamento di bovini pregiati franco montagnere non riuscendo ad ottenere la liquidazione si introduce di notte nell'azienda e decide di risarcirsi con corinto un toro da riproduzione con un toro da riproduzione con l'amico loris che ha un allevamento di vitelli decide di andare a vendere un toro in ungheria dove franco conosce il responsabile di una grossa cooperativa zootecnica caricata l'enorme l'enorme quanto mite bestia sul camion comincia un lungo viaggio attraverso mille difficoltà abbiamo un film del 1994 96 minuti dolby digital 2.0 anche qui abbiamo il disco qui ve lo tolgo perché c'è l'immagine che si completa qui anche qui abbiamo i capitoli altro titolo che io cercavo da tempo non ricordo se fosse andato fuori catalogo o si trovava solo la vecchia edizione e per la regia di riprando visconti la orca che non è la porca ma probabilmente ci si avvicina ora vediamo un attimo anche qui versione restaurata quindi sono contento di di avere questo film visto che ero sempre lì per comprarlo e non lo compravo mai allora una scioccante una scioccante storia di amore di erotismo e qui si associa la quello che dicevamo prima si delinea sullo sfondo del sequestro a scopo di estorsione di alice ragazzina dell'alta borghesia lombarda che alcuni loschi individui segregano in un cascinale affidandole alle cure di un giovane carceriere il film più morboso e fortunato di visconti ovviamente ediprando quindi non luchino racconta una sindrome di stoccolma in cui la vittima e carnefice sovvertono di continuo i propri ruoli fino alle estreme conseguenze di un'atrosfera di grande raffinatezza visiva e di profondo patos abbiamo un film italiano del 76 97 minuti dolby digital 2.0 quindi anche qui lo stereo qui non abbiamo nulla assolutamente nulla nell'interno questo è il retro e questo è il front ultimo arrivo da parte di mustang anche questo lo aspettavo biggie un film di carlota pereda non conviene farla arrabbiare è uno slasher psicologico mozzafiato emozionante e feroce questo dice varieti poi invece uno splendido e brutale dice dread central un classico istantaneo dice chicago reader un revenge horror dell'estensamento oscuro dice horror dna sensazionale un thriller perfetto by arper bazar ragazzi non leggo mai movie mag su questi eppure ne compro di blu ray tv dove ci sono citazioni movie mag ma loro sono più bravi loro non fanno il copio ancora allora l'adolescente sarah comunque la copertina è questa è penso già iconica di suo l'adolescente sarah è schernita e bullizzata costantemente dai suoi cotani ma va in compresa anche dalla sua stessa famiglia la ragazza vive un'esistenza isolata ma quando dopo l'ennesimo abuso da parte di alcune compagne avrà l'inaspettata occasione di vendicarsi delle sue cucine scoprirà quanto può essere semplice passare da vittima a carnefice tra carri e non aprite quella porta piggy è uno slasher psicologico mozzafiato inquietante sanguinario splendidamente diretto dalla nuova maestra dell'horror ribedico carlota pereda e sorretto dalla feroce interpretazione di laura galan abbiamo appunto un film spagnolo del 2022 quindi decentissimo durata 99 minuti audio italiano dts 5.1 master audio anche in spagnolo cioè quindi italiano e spagnolo anche qui penso che abbiamo il disco ma abbiamo la copertina che si congiunge e le scene la selezione delle scene extra non ne vedo sul trailer ragazzi a proposito di extra lo faccio sempre però non credo ci siano extra qui quindi su questo proprio no qui invece ce ne sono ve li leggo quindi sul il toro c'è appena praterio intervista a diego abbatanduono e carla e carlo mazzacurati alla mostra del cinema di venezia quindi interessante conferenza stampa alla mostra del cinema di venezia e sul set interviste backstage quindi nel toro ci sono degli extra mentre extra per quanto riguarda la orca nemmeno a pagarne quindi gli extra sono soltanto su il toro dei titoli mustang bei dei titoli passiamo all'arrivo da parte di amazon preso col black friday edizione bellissima di le ali della libertà tra l'altro è un film vault italianissimo c'è quindi abbiamo il flyers in italiano oltre al titolo in italiano qui preso con l'offerta anzi dovrebbe ancora esserci a 41 euro e qualcosa invece dei 69 che costa vi metterò anche il link in descrizione di questo perché a mio avviso vale la pena averlo allora ragazzi chi ci segue conosce the vault film the film vault anzi ha questa particolarità del diciamo della slip case in plastica è un cofanetto ovviamente quindi il titolo sta qui tutte le diciamo il flyer virtuale sta qui e questo invece è il cofanetto che ha dei colori dal vivo dal vero bellissimi spero che in telecamera renda l'idea è un bel cofanetto lo andiamo ad aprire ovviamente sta seguendo questa linea the vault film allora guardate che bello quando si apre molto 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 bello e qui dovrebbero esserci i contenuti cartacei perché è una bustina come potete vedere stampa in uv qui quindi lucido e lucido poi abbiamo il solito cristallo ragazzi non è plexi è cristallo spero si veda bene c'è il nome del titolo e la mia numerazione la mia è la 4122 di 5000 immagino però che siano 5000 in tutto il mondo non credo che the vault film faccia praticamente 5000 solo per l'italia anche perché conoscendo un po' i numeri del nostro collezionismo sarebbe un po' difficile venderle e niente quindi è molto bello e ragazzi per me un fermacarte a tutti gli effetti è molto molto bello poi abbiamo il solito digipec formato cd che ci fa the vault film the film vault come si suol dire ha la sua slipettina eh no slipettina perdonatemi eh sì eh slipcase ragazzi un attimo di lapsus eh vabbè o card come cazzo la vogliamo chiamare e niente e poi il suo digipec all'interno che sono sempre molto belli anche qualitativamente devo dire la verità formato cd e in questo caso abbiamo dentro il 4k e il blu ray anche qui con il titolo localizzato ragazzi vi chiedo ancora scusa per lo sfogo di prima ma come vedete sono sereno eh cioè ci mancherebbe certe cose però fanno girare i coglioni poi soprattutto quando alcuni dovrebbero essere dei professionisti eh allora a parte scusatemi molto molto bello eh io posso parto dal presupposto che chi ama il cinema dovrebbe avere e sottolineo dovrebbe un animo gentile ovviamente nemmeno io sono un santo eh ci mancherebbe che amo il cinema e quindi sono diciamo l'uomo più tranquillo del mondo però certe piccolezze ecco come un po' il razzismo come come il bullismo perché tu stai tentando di bullsare vabbè non il personaggio in genere cioè visto diciamo gli attori in campo cioè me e lui difficile fare bullismo però diciamo l'intento era quello ed è triste per una persona che dice di amare il cinema insomma significa che vedi vedi ma non capisci un cazzo cioè guardi i film ma non capisci una minchia vabbè mi ho dato troppa importanza a sto personaggio adesso gli ho fatto pure pubblicità a sto cretino allora questa è la bustina qui abbiamo delle cartoline un attimo perché si sono un attimo mischiate le cose no allora forse 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 allora togliamo questo che non mi serve più per il momento allora questa cartolina con il protagonista dietro abbiamo la frase del film in inglese poi 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 ecco questi sono dei poster lucidi in formato A3 molto belli anche qui faccio notare la differenza con quelli raro film che non si spaccano ma tanto ci sarà chi farà tutto uguale e tutto più bello anche questo è un bel poster anche se in carta ruvida e opaca poi abbiamo questa carta da lettere piegata un po' a merda scusatemi il termine non so se si è piegata la mia ora non ricordo il film se ci fosse qualche piegatura particolare ma è uscita piegata così vabbè con la lettera scritta e fa riferimento al film la rimettiamo a posto e qui dovrebbero esserci altre card infatti era non ho capito questa è arrivata un po' sta bustina un po' un po' in maniera collocate le cose un po' in maniera strana vabbè quindi allora ricapitoliamo ve le faccio vedere tutte insieme una ovviamente dietro ogni card c'è una frase due quindi abbiamo Morgan Freeman ragazzi sul film non mi soffermo sono film che conoscete molto meglio di me chi non conosce le ali della libertà vada appunto su movie mag non scherzo vada su siti seri e vada a vedere di cosa si tratta insomma sono io l'ultimo a darvi lezioni di cinema insomma stiamo parlando di cult allora finché si parla del filmetto magari semi sconosciuto o nuovo magari mi soffermo pure dove l'ho visto ma in questo caso mi sembra davvero superfluo niente sono belle le card sono immagini in buona definizione cioè in ottima definizione direi quindi con tutte le frasi è una bella edizione ragazzi è una bella edizione a mio avviso vale i soldi che costa anche a prezzo pieno sono molto onesto ovviamente laddove si può risparmiare ragazzi non ci inventiamo nu ecco forse ho capito perché era piegata perché dritta non ci va e come dire alla fine tutti vogliamo risparmiare però dobbiamo anche dare valore alle cose nel senso che se un'azienda decide di fare determinati cofanetti quindi investire perché non sono soldi di produzione ma ci sono comunque tasse diritti come dire dipendenti logistica non è che fanno tutti le cose in uno scantinato insomma ci sono aziende che lavorano in maniera seria gente che hanno i dipendenti non ci sono gente che vadano le tasse solo porco e niente ragazzi ho dovuto fare un taglio perché stavano partendo i bestemmioni che non riuscivo a trovare il senso della cosa quindi fatemela passare e niente questa era la bustina che mi ha diciamo vinto 10 a 0 nei miei confronti andiamo a riporre il il tutto nella sua diciamo slip case di lucida allora ragazzi passiamo agli arrivi da parte di piano 9 perdona piano 9 saluto Daniele Francardi e niente ho preso questo bellotto anzi c'era ancora il prezzo quindi questo me lo ricordo 13 euro quindi blu ray di giallo Italia Argento che non è uno dei migliori film di Italia Argento e la colonna sonora in cd che è molto molto particolare musica composta da Marco Uerba abbiamo un bel cast qui eh però so che non diciamo non ha fatto diciamo scalpore come film c'è Edry Brodry Emmanuel Seigneur e Del Sapataki però però so a detta di molti che non è stato felice come come film non l'ho mai visto quindi non mi pronuncio io personalmente produzione dell'Angelo Dolby True HD quanto spreco per certi film non so cosa ci fosse dentro vediamo un antitaccheggio ok quindi il blu ray semplice ragazzi non mi soffermo su film perché se no mi picchiate già lo so è un film di Italia Argento la prossima ultima potresti essere tu andiamo ad aprire il cd giusto per capire un po' ragazzi inutile che vi dico da Daniele ottimi prezzi lui fa le sue live sulla sua pagina quindi se non la conoscete andate su su facebook cercate pagina piano 9 e e niente lì fa delle dirette ma mette anche delle vendite con dei post quindi si trova si fanno buoni affari proprio con Daniele devo dire la verità fa mediamente una due live a settimana se non erro e si fanno ottimi affari cd nuovo tra l'altro molto bello come serigrafia dopo lo metto nel mio impiantino lo provo lo provo no nel senso se funziona o meno lo provo voglio ascoltare un po' la qualità così magari quando guardo il film almeno conosco già la colonna sonora qui abbiamo un booklet molto bello e ragazzi la bellezza del fisico è questa io sono abbonato parliamo di musica io sono abbonato a Tidal o Tidal ascolto musica in buona qualità ho un impiantino abbastanza serio niente di abbastanza serio e quindi posso ascoltare qualsiasi voglio qualsiasi cosa anche lì se metto giallo sound track assolutamente la trovo e l'ascolto perché comprare il cd perché stesso discorso per i film perché è mio ce l'ho io ho il tatto è qualcosa che mi piace visivamente il gesto poi ci sono i booklet quindi le curiosità le cose è cultura e poi io sia una capra è un altro discorso però in genere è cultura e niente poi macete kills avevo il primo titolo questo qui mi mancava con il mitico 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 Danny Trejo che io adoro c'è anche Michelle Rodriguez una bella ragazza per non essere volgari bellino 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 vabbè conoscete macete molto trescione molto cacciarone l'ex agente federale macete cortez torna regolato al presidente degli stati uniti per portare a termine una missione impossibile per qualsiasi comune mortale eliminare un pazzo rivoluzionario un eccentrico miliardario mercante di armi che ha deciso di diffondere guerra ed anarchia sul pianeta Mel Gibson Antonio Banderas Michelle Rodriguez e Sofia Vergara è il cast del star del nuovo film di Robert Rodriguez che segna il ritorno del mercenario più riverente del cinema americano dopo il successo del primo macete è diventato un autentico cult lo stevedese ritorno del visionario regista di Sin City contenuti extra making of scene tagliate ed estese e trailer ultimo arrivo del video e di Daniele la steelbook di Enter in the Dragon pagata davvero poco ora non ricordo ragazzi 17 euro il minimo che è scesa su Amazon e 20 quindi in questo caso c'è un risparmio evidente ovviamente ragazzi bisogna aggiungere una spedizione però comunque poi spalmandola su più titoli si riesce comunque a risparmiare su determinati titoli contenuti speciali contenuti speciali la steelbook di Enter in the Dragon tra l'altro se non erro sta andando fuori catalogo se non l'ha andata già al momento la usce sicuramente non presi all'uscita questo titolo sinceramente perché non è madonna 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 warner con questa colla madonna ma smettila smettila basta warner basta social media della warner cambia lavoro che non segui video ma non perché io sia qualcuno ma perché non credo che non sia l'unica a dirtelo mamma mia vabbè steelbook molto bella tra l'altro film con Bruce Lee abbiamo il 4k e il blu ray ragazzi come mi fanno incazzare certe cose bella ragazzi è bella sì bella bella dicevo non è uno dei miei film preferiti mi piacciono i film di Bruce però non ho preso luce quando è uscita perché diciamo non era tra le mie priorità l'avrei magari presa in secondo momento a un prezzo più basso ma è andata fuori catalogo va bene così ho recuperato questa e mi sta bene ovviamente abbiamo vi leggo un po' vabbè leggo anche un po' la trama perché questo si è famoso ma magari qualcuno non lo conosce celebrare l'ultimo film della leggenda delle arti marziali infatti è l'ultimo film di Bruce Lee Bruce Lee per la prima volta in 4k una missione su un'isola esotica per conto del suo governo una spia Lee deve gareggiare di giorno in un micidiale torneo mentre di notte indaga sull'oschi traffici di droga in un ospedale signore del crimine con i suoi colpi di scena la raffinata fotografia le sensazionali scene di un battimento coreografato dallo stesso Lee i tre dell'operazione drago si conferma un film cult della storia di azione include la versione cinematografica è quella dell'edizione speciale introduzione a cura di Linda Lee Cadwell e commento di Paul Heller e Michelle Allin l'italiano l'abbiamo in 2.0 Dolby Digital mentre l'italiano sul blu-ray è mono vietato ai minori di 14 anni e niente e quindi questa è la steelbook beh ragazzi che dirvi spero che il video vi sia piaciuto che vi sia stato sempre almeno utile in qualcosa quindi ne scegliere qualche film vi chiedo scusa ancora per la premessa abbastanza lunga ma era doverosa vi auguro un buon fine che buon fine settimana una buona settimana siamo solo a mercoledì quindi perché comunque lo caricherò oggi mentre lo sto registrando ci vediamo presto su questo canale ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti